benvenuti a questa breve indagine grazie alla nostra amica che intitolerò malore improvviso ciao elena una nuova patologia ma loro improvviso è il caldo e lo sport è ma mancanza di acqua quando si balla in discoteca compisce tutti specialmente i giovani e specialmente gli sportivi colpisce il cuore causa esoterica elena è una nuova patologia non c'è mai stata il valore improvviso intanto nel cinema chiamiamo tutti i medici del mondo se quelli che lo sono ancora sia pochi se quelli che sono degli ipocriti di posso entrare se si entri niente non sono limitati non evitati assolutamente non so se poi entreranno diciamo che dentro il cinema possono vedere come stanno le cose fuori dal cinema c'è una tempesta di ad eternum che gli scarico io sulla testa dentro cinema no formazione decidono loro chiama anche ippocrate così è giocata visto che hanno giurato su di lui con lui causa esoterica elena allora a livello esoterico io vedo che hanno qualcosa all'interno della circolazione direi perché vedo che si ferma come se a un certo punto si fermasse in un vaso o anche in un vaso del cuore ok e c'è vedo una specie di palla sotto con due ganci che si aggancia alla pare alle pareti del vaso e crea un un tappo una palla contanto è per tutto uguale siccome ma sempre una 12 vacca immagino no sì 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 siccome ci va che sono diverso tipo diverse dosi diverse marche c'è solo una patologia c'è un'unica finalità perché non tutti insieme allora c'è e vedo quello quella cosa lì si può alla fine però arrivano lì ma in alcuni vedo solo quella cosa lì in altri vedo che prima c'è anche si forma si posso dire che di cosa si attaccano le cose delle molecole attaccate tutte assieme all'interno del sangue ed è come se man mano che passa questo grumo di molecole se ne attaccano delle altre fino a chiamare a creare un tappo fino a creare un tappo sì e poi mio c però in cima al tappo poi c'è sempre sta palla costi canci nel senso quella lì è la parte finale per alcuni avviene prima altri invece ci mettono un po di più e quindi c'è questo tappo di molecole tutte aggregate c'è un ci sono i presunti supposti corner che analizzano gli oggetti i soggetti colpiti da malore improvviso e hanno visto che la ghiandola pineale è o assente o atrofizzata o diversa dal normale è così in eterico vi mettoni facciamo una visione in eterico vediamo la pausa esoterica non c'è nessuna finalità scientifica o riscontro scientifico noi guardiamo se è così e confermo perché se se ti ricordi ci sono state un paio di sessioni mesi 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 fa dove andavo a vedere su persone che erano cinivaccate che ci veniva chiesto dai clienti e io vedevo proprio che quali creavano un triangolo e c'era un collegamento con la pineale verso l'esterno e quindi l'avevo già visto in tempi non sospetti questa cosa quindi staccano la ps se e man mano che ciucciano la pineale la ps diventa tutta scagliata non sai con il bordeaux toffra stagliato e nero e dentro vedo grigio e sempre più ps diventa così ciao ciao epifisi finale ciao ciao pigna che campeggia tanti cancelli di ville o che è la pineale ricordate se o quel soprammobile che piace tanto per esempio sicilia piace tanto la pigna che che strano che non lo sa nessuno che questa cavolo di pigna e la pineale che è il simbolo massonico ed esoterico per eccellenza che strano che viviamo in un mondo di deficienti e poi magari qualcuno sentirà questo video direi ma quello che si crede di essere ma no no ha ragione la tv ragione che commentano no no non è la pigna solo soprammobile la cultura nostra sicura quella di avere la pigna non vuol dire niente se non una pigna che francamente nella sicilia non c'entra nulla ci sono paesi e regioni italiane che di pini ne hanno tempo pochi eppure c'è la pigna appunto domanda che roba strana poi magari ve lo siete anche andate a vedere come è fatta questa epifisi assomiglia la pigna anche caso bene come vedi la situazione di questo valore improvviso nuova patologia riconosciuta dalle ssn nuovi casi in aumento siamo nata parecchi tantissimi io vedo sempre esponenziale allora lo vedo da sempre io però adesso proprio giorno per giorno quasi come se si moltiplicassero quindi 12 48 potenzialmente si spazio per future punturine non c'è quindi la gente se ne accorge una famiglia ci sono casi assolutamente le complottisti inizia proprio accorgersene la gente c'è spazio per nuove epidemie per nuovi punturine per la quarta quinta sesta notte nuova non hanno cose quindi diciamo per i non punturinati il peggio è passato allora è passato da quel punto di vista io continuo a vedere un passaggio molto cruento tra virgolette nel senso che sta venendo a galla tutto io vedo tanti arresti e vedo che verrà fuori tutta la verità e poi si ripartirà ma questo passaggio è abbastanza a livello pratico quello che continuo a vedere è che sarà abbastanza duro perché avete gente che rimarrà senza cibo vedo i militari che daranno la razza di cibo vedo che non ci sarà la luce ma questo si sta già vedendo ma lo avete già da un po quello che vedo che sarà un passaggio ma la gente darà di testa completamente non sono pronti per niente in più sono soprattutto quelli civaccati è come se morissero prima perché danno di testa quindi tutto un meccanismo così quindi ci saranno un po di mesi di questo passaggio un po così quando entro fine anno inizieremo a vedere questa cosa critica secondo me vedo fino ad aprile dell'anno prossimo poi inizierà a rinascere tutto c'è bisogno di sangue se ce ne sarà ce ne sarebbe bisogno tanto ma sangue di non controllo no c'è quali non c'è ne traccate ovvio però perdono il controllo non riusciranno a star dietro a questa cosa quindi ma obbligaranno qualcuno a donare il sangue non è possibile perdere il controllo non sanno più da che parte girarsi io li vedo proprio un disastro c'è vedo proprio un momento un po così sono in grado di crearsi una d'eterno micini vacati a un limite è come se avesse un bordo come posso dire è come se fosse una sfera chiusa che non da qui non esce l'energia ok ha senso assumere melatonina ciò menticini vacati se la melatonina non fosse compromessa esistono se la strada per stare attenti allora come ultimo tentativo e questo l'avevo già visto ma adesso è molto più chiaro come ultimo tentativo del dipster che sono disperati e devono cercare di tirare su energia più da tutti il più possibile ok quindi stanno contaminando i farmaci soprattutto i farmaci le anestesie quindi la melatonina potrebbe essere utile per sbarrellare meno è ma non è che risolverò il cvac semplicemente ti fa arrivare più calmo e più o meno scombinato comunque alla alla patologia e poi alla morte ma può essere compromessa la melatonina oltretutto va bene va male quello che vuoi percentualmente nel cinema medici medici quanti sono 16 per cento ok chi entra nel cinema è un medico che si batte che si rifà la verità che dice la verità e che accetta tutto quello che c'è da accettare sospensioni risate quello che è ma resta nella verità chi resta fuori viene bombardato ad eternum da ad eternum se vuole smettere di prendere ad eternum in testa entra nel cinema e si adatta alla verità al suo mestiere ma di questo 16 o 13 sono assolutamente pronti a battersi sono arrivati fino qua e non ci sarà niente che mi può far cambiare idea c'è un 3 per cento che non ci faranno cambiare idea ma stanno un po più in sordina quindi come se si allontanassero un po si isolassero un po si isolano per un po e non hanno la forte devono rimanere centrati in loro quindi non hanno la forza di battersi fuori però non vengono non riescono a convincerti comunque sono arrivati fino qua bene voglio aggiungere qualcosa l'importante è rimanere centrati lavorare su di sé e essere autonomi essere pronti ad essere autonomi rimanere centrati soprattutto magari bambini tenerli lontani da da vedere ecco tutte queste cose secondo me può essere utile se non vogliano cene vacati i geni dei geni si non accertano di quei bambini di quelli che non sono cene vacati gli altri ricordiamo tutto per evitare un'influenza quindi quindi lo capisco che un genitore debba no l'influenza va bene chiudiamo qui grazie ciao a tutti e grazie anche all'amica che ci ha ospitato che per non si sa mai non nomino ciao